buona giornata amici da massimo foghetti oggi è venerdì 24 dicembre 2021 mi sono fermato un attimo perché la vigilia di natale è un giorno molto molto particolare un giorno come il sabato del villaggio in cui c'è più aspettativa per quanto riguarda la festa e poi oggi ci sono gli ultimi addempimenti prima appunto del giorno di natale sia quelli religiosi che quelli della festa in sé per sé il sole questa mattina sorge alle 7 e 39 e tramonta alle 16 e 33 oggi si festeggia san delfino di bordeaux sono molti i santi che vissero all'epoca delle persecuzioni romane che si festeggiano ancora nel calendario san delfino visse nel quarto secolo e fu vescovo in acquitania partecipò al concilio di saragozza che condannò le dottrine di prisciliano erano delle dottrine eretiche fu maestro di san paolino danola con il quale trattenne un rapporto epistolare di particolare importanza da cui si possono trarre tante tante riflessioni e cominciamo la nostra rassegna stampa questa mattina a partire dal corriere adriatico sulla pagina di fano il sindaco massimo seri sindaco di fano annuncia avremo il giorno del ringraziamento sarà un giorno che si festeggerà il 4 dicembre di ogni anno per premiare che si è particolarmente distinto per il bene della città per quest'anno la festa è rimandata però nel mese di gennaio l'ho detto nell'ambito di una riunione della proloco quella riunione che si fa solitamente a fine anno in cui il presidente macorra ha così esposto un consuntivo dell'attività ebbene una delle cose più belle che la proloco ha fatto a fano in quest'anno è senz'altro l'arredo del pincio uno spettacolo veramente bello che ha suscitato l'ammirazione di tante persone sia di fanesi che da persone venute da fuori e che si avvalza anche della collaborazione professionale dell'architetto stefano seri una riunione in cui sono riuniti circa 50 volontari della proloco e la proloco esprime un po quello che è il senso del volontariato di tutta fano dove ci sono tantissime associazioni che si dedicano con altruismo al bene della città e ieri è stato svelato anche palazzo zagarelli borgoggelli avvenuti il cui restauro viene finanziato dalla fondazione carifano è stato svelato perché dalla facciata sono state tolte tutte le impalcature ed è apparso veramente uno spettacolo un palazzo del diciottesimo secolo con delle architetture particolari un bellissimo portale dei colori meravigliosi che rendono via san francesco in un tratto di cento metri particolarmente interessante a partire da san pietro in valle dalla sede del comune del palazzo municipale un antico convento dalle tombe malatestiane della chiesa di san francesco ed ora da palazzo zagarelli vorgogelli avveduti ecco mi è venuto il nome giriamo ancora la pagine vediamo il messaggio del vescovo armando trasarti per il natale politica saggia è il monito del presule per il bene comune a piccoli passi usando la creatività gli auguri del vescovo indirizzati in particolare agli amministratori pubblici l'assunzione di responsabilità verso il prossimo è il cuore del saluto augurale che il vescovo armando trasarti ha rivolto ai fanesi e a tutti gli abitanti della diocesi in questo nuovo natale chi amministra un territorio ha detto e soprattutto le persone che vi abitano devono confrontarsi quotidianamente con la concretezza del bene comune che è vita ordinata possibilità di crescita direi di fioritura di tutte le risorse e le potenzialità in esse presenti ci sono poi altri punti che ha toccato il vescovo quindi vi invito a leggere questa questi auguri che sono un'occasione di riflessione interessante soprattutto per il natale in occasione del natale sono stati premiati due carabinieri che hanno salvato la vita ad un uomo che aveva avuto l'intenzione di gettarsi sotto il treno l'episodio risalì risaliva al 2 aprile scorso quando gli appuntati scelti cristian piscopiello e michele lazzarini accorsero alla stazione ferroviaria in seguito ad una segnalazione l'encomio è stato concesso dal comandante della legione marche il generale di brigata fabiano salticchioli ed è stato consegnato agli appuntati dal tenente colonnello gian luigi cirtoli la motivazione del premio sottolinea la lodevole iniziativa di speccata professionalità e altruismo sulla valmetauro biologico stesso obiettivo ma risorse compromesse il distretto terremarchigiane non appare riconosciuto dall'analoga iniziativa della regione il tema del contendere sarebbe il fatto che non esiste da parte della regione un riconoscimento ufficiale nei confronti di terre marchigiane anche se il consorzio così persegue gli stessi obiettivi che sono stati indicati dalla regione e viene così preclusa ogni possibilità di accedere ai bandi e ai conseguenti finanziamenti una discrepanza di carattere burocratico che deve essere appunto eliminata e arriva babbo natale a fossombrone e oggi gli auguri sotto l'albero lo scambio di auguri tradizionale e la celebrazione della messa di mezzanotte saranno sindaco e assessori a stringere simbolicamente la mano a tutti i forsempronesi è una tradizione che si rinnova da tanti anni e che si vive con una buona dose di emozione nella città metaurense e veniamo anche alla pagina di urbino dove si parla di sanità all'ospedale per rotorino nuova veste organizzativa più efficienza e innovazione all'interno del reparto diretto dal dottore d'urso in particolare si rileva la presenza di un tecnico un audiometrista e poi ancora tre punti interessanti un protocollo per la gestione di chi arriva dal pronto soccorso e quindi ci sono delle regole ben ben precise da seguire e osservare e poi lo screening audiologico neonatale che viene fatto in reparto e infine la riabilitazione vestibolare come trattamento dei disturbi dell'equilibrio quindi un reparto di otterino di alta specializzazione ad urbino sulla pagina di pesaro vediamo che si apre con anzi parliamo delle marche innanzitutto perché poi i problemi di pesaro sono un po' i problemi di tutte le località marchigiane e diamo un'occhiata agli ultimi provvedimenti del governo e come vengono applicati nella nostra regione sono provvedimenti che restringono le misure per combattere il covid niente feste chiudono ancora le discoteche e dentro il bar bisogna entrarci solo con il super green pass ecco le nuove misure questa tabella che vi indico vengono riassunte in maniera molto sintetica ma significativa lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 marzo il green pass dal primo febbraio viene ridotto di validità invece di nove mesi sarà di sei mesi una somministrazione della terza dose viene ridotta da 5 a 4 mesi al green bar scusate al bar si può andare solo con il green pass e niente cibo in cinema teatri e stadi mascherine all'aperto sempre anche se non c'è assembramento obbligo della ffp2 fino al 31 marzo per entrare nel cinema teatri stadi e sui mezzi di trasporto divieto di feste l'aperto fino al 31 gennaio richiudono le discoteche e poi un tampone nel rsa dal 30 dicembre fino al 31 marzo quarantene dall'estero rimane in vigore la regola del tampone obbligatorio perché arriva dall'estero anche se vaccinato 9 milioni vengono dati per lo screening nelle scuole per assicurare il tracciamento agli studenti appunto ci saranno queste risorse di supporto dal ministero della difesa vediamo ora la pagina pesarese e vediamo come si parla in questo caso di pressione fiscale ebbene il comune nella ricerca della evasione ha trovato un fondo di 3,7 milioni di euro nelle 2021 una partita abbastanza fondamentale che permette al comune di disporre di risorse per realizzare non pochi interventi dal 2012 è stata istituita per esempio l'imposta municipale unica che sostituisce la vecchia icchi chi la deve pagare la paga chi abita nelle villette nei palazzi storici o nelle abitazioni ritenute di pregio ma anche i proprietari di aree fabbricabili i proprietari di terreni e chi ha in concessione un'area demaniale ebbene come si fa a risalire ai debitori non c'è molto scampo perché grazie alla tecnologia alle innovazioni tecnologiche ovvero tramite certi software è possibile arrivare anche chi cerca di così svicolare dal pagamento di questa tassa ecco perché il comune di Pesaro è riuscito a avere tanti tanti soldi in più e poi ne ha avuti tanti anche dallo Stato dall'Europa insomma una serie di finanziamenti extra per 63 milioni di euro lo vediamo in questo articolo finanziamenti un record a Pesaro quasi 63 milioni il vice sindaco Vimini risultato frutto dell'impegno degli assessorati un bilancio di fine anno da jackpot per Pesaro la somma dei contributi comunitari e nazionali destinati al comune è di ben 62 milioni 852 mila euro una cifra quasi 100 volte superiore a quella ricevuta nel 2020 e che cosa si farà con questa cifra? ebbene ci sono moltissimi interventi qui ve ne indico alcuni la bicipolitana di Pesaro farà scuola in Europa ottenendo 58 mila euro stanziati appunto dall'Unione Europea poi abbiamo 800 mila euro ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la nuova pista ciclorotellistica di 2 chilometri prevista alla Torraccia per il San Benedetto ci saranno ben 30 milioni e il Bando Nazionale di Rigenerazione Urbana ha fruttato altri 20 milioni di cui 8 e mezzo destinati a Palazzo Mazzolari e alla Falegnammeria dei Musei Civici 7 milioni a San Domenico per la sistemazione del chiostro e poi tanti altri interventi tutti al pronto soccorso ecco il piano di emergenza la direzione di Marche Nord ieri ha emesso un comunicato anche per attenuare così la verve del presa di posizione del primario del pronto soccorso Gnudi ebbene la direzione di Marche Nord dispone la copertura dei turni da parte di altri medici di medici di altri reparti di chirurgia, medicina insomma tutti gli altri ciascuno dovrà fare un turno anche al pronto soccorso il criterio delle specialità equipollenti e affini sarà sempre presente un professionista esperto farmacie overbooking per i tamponi delle feste un considerevole aumento delle richieste per cenoni, viaggi e contatti sospetti l'hub di Via Giolitti resterà aperto part time anche nel giorno di Natale e di Santo Stefano per effettuare questi tamponi la cui richiesta è cresciuta in maniera esponenziale e c'è anche un grosso lavoro nonostante le festività per il presidente della provincia Giuseppe Paolini, per Paolini feste concentrate, un tavolo con i sindacati già il 27 di dicembre l'incontro è stato proprio voluto dal presidente per così precedere la conferenza dei sindaci dopo pochi giorni Paolini che è anche presidente della conferenza dei sindaci dell'area vasta organizzerà la riunione appunto con i primi cittadini per parlare della sanità e dei suoi problemi che non si possono dimenticare anche se è Natale e poi ancora a Vallefoglia controlli nei locali, niente green pass, scattano le chiusure e salate sanzioni sono state compiute verifiche a Vallefoglia ma anche a Montelabate, a Urbino e Fano due esercizi non in regola sono stati individuati e puniti anche lavoratori in nero scoperti in particolare un bar e un ristorante dell'Interland sono stati sanzionati perché all'interno sono stati trovati lavoratori senza green pass per le violazioni accertate è scattata la chiusura rispettivamente per 3 e 5 giorni nei due locali in relazione anche all'impiego irregolare di mano d'opera in nero in ben 3 dei 5 locali che sono stati controllati e ripeto Vallefoglia, Montelabate, Urbino e Fano e poi a questo punto abbiamo esaurito l'esame del Corriere Adriatico possiamo così procedere a vedere quello che accade a Pesaro sul resto del Carlino la sintesi in prima pagina ospedale, intervenga figliolo è l'appello che il sindaco di Monbaroccio Petrucci fa perché il generale venga nella nostra realtà e verifichi di persona quello che sta accadendo e poi ancora i fantasmi dei cassonetti questo è un articolo su cui occorre fare una riflessione anzi lo guardiamo subito nella pagina interna anche questo è Natale c'è una sequenza fotografica c'è un incaricato di un supermercato che va a buttare in un cassonetto il cibo che non si vende più in giornata e subito dopo c'è un disperato di strada che va a frugare nel cassonetto per mangiare qualcosa e qui vediamo del pane che è stato buttato tra le immondizie chiude il market e spuntano i disperati attuffo nel cassonetto per un pomodoro il viaggio che compie il giornale alla celletta dove la sera c'è chi aspetta l'addetto che getta via pane e verdura fresca e poi li tira su dai bidoni anche questo, dicevo, è Natale pronto soccorso, medici in aiuto da altri reparti il primario allora sì, dice Gnudi, che possiamo farcela ma intanto il sindaco di Monbaroccio Petrucci scrive al generale Figliolo e al capo della protezione civile intervenite a Pesaro dove l'emergenza sta diventando veramente insostenibile ed è emergenza anche per quanto riguarda il reparto della ristorazione disdette e conferme l'altalena dei ristoranti il Covid, la pandemia sta decimando ancora una volta chi opera nella ristorazione ci sono delle dichiarazioni qui vediamo i titolari di alcuni ristoranti Uldergo, mi hanno detto no 57 persone faccio un Natale tra intimi ovvero tra poche persone ma remosso, siamo sospesi e poi da sante io ho rimpiazzato fioccano dunque le disdette per i pranzi di Natale e Capodanno la variante Omicron piomba sulle feste degli italiani e sarà anche un problema così pranzare a casa con i familiari Alessandro non sei solo ti aiutiamo noi l'Istituto Agrario di Pesaro Villa Caprile è pronto a dare una mano al 24enne affetto da lesione spinale che cerca di avere un trattore per lavorare nella sua azienda e qui c'è un concorso di solidarietà oltre alla preside dell'Istituto Donatella Giuliani si è fatto avanti anche l'assessore Enzo Belloni che di Alessandro conosce la determinazione essendo stato il suo allenatore nella squadra di basket e poi c'è anche il presidente della provincia Giuseppe Paolini insomma per guidare il mezzo agricolo serve un patentino che Alessandro potrà prendere a Villa Caprile e poi questo concorso insomma desta un po' di speranza anche il Carlino interviene sui controlli che sono stati fatti nei ristoranti lavoratori in nero chiusi e multati tre locali accertamenti dei Carabinieri e dell'Ispettorato su cinque attività al pubblico a Fano, Urbino e a Montelabate dipendenti scoperti senza Green Pass fondi nazionali ed europei pesca miracolosa di Pesaro il Comune ha raccolto 62 milioni la cifra è veramente considerevole circa 36 volte di più rispetto al 2020 dalle tartarughe alla bicipolitana all'urbanistica alla cultura tutti i progetti vengono evidenziati anche dal resto del Carlino e poi siamo sulla pagina di Fano dove grande risalto si dà la notizia del rinascita di Palazzo Borgoggelli a Veduti è terminato il restauro scusate del portale d'ingresso e delle mura esterne in via San Francesco la fondazione Cassa di Risparmio ci crede porta avanti quest'opera che è veramente un'opera considerevole perché comporterà lavori per diversi anni trasarti piccoli passi verso la stella polare ci sono espressioni anche belle dal punto di vista così delle parole usate dal Vescovo di Fano per augurare un buon Natale il prelato ai fedeli serve una politica per coltivare e incrementare la capacità di stupirsi e a Fano scusate a Fano il costo del metano cresce sempre di più c'è un far west del distributore il massimo è aggiunto nella città metaurense con quasi 2,5 euro al chilo a Riccione siamo a 1,29 quindi molto molto di meno e i ribassi e i rincari non seguono una logica precisa e qui vediamo due differenze Mauro Cardinali sta indicando il prezzo del metano a Riccione lo vediamo 1,29 questo invece è il cartello che c'è nel distributore di Fano 2,499 quasi 2,5 veramente ormai non sembra quasi più conveniente fare un pieno di metano rispetto a un pieno di benzina spaghetti alle vongole i francesi ne sono ghiotti inviata sul posto a Fano una troupe tv di France Trois per la pesca d'eccellenza fanese ora assicurano che gli chef la proporranno nei loro menu più ricercati ed è stata un'iniziativa di grande promozione per uno dei prodotti tipici fanesi che vengono esportati in tutta Europa in particolare in Spagna ma adesso anche in Francia a questo punto vediamo anche quello che accade a Dorciano un pienone per quanto riguarda il punto vaccinale in quattro mezze giornate sono state fatte ben 770 somministrazioni le prime dosi sono state 35 un segnale incoraggiante appunto per la diffusione del vaccino a Urbino a Teneo pronto a investire 26 milioni nel 2022 nell'ultimo consiglio di amministrazione dell'anno si sono deliberati i lavori per le infrastrutture e di questo parla il magnifico rettore Giorgio Calcagnini siamo virtuosi ha dichiarato e qui lo vediamo in una foto che cosa si farà con questi soldi ebbene saranno investiti per le aule del Petriccio e altri e altri lavori come quelli che continuano alla ex sogesta ristrutturazioni in alcuni palazzi del centro storico e anche lavori nei laboratori gli studenti dell'ITIS maestri di pneumatica o nel ristretto gruppo di ragazzi è riuscito ad ottenere in un ambito diploma di specializzazione grazie a un corso sperimentale e qui vediamo Acquaroli in visita all'Università Agraria di Montenerone il Presidente della Regione è andato ad Apecchio insieme al Consigliere Giacomo Rossi per evidenziare anche la vicinanza della Regione a questa istituzione prestigiosa il caso Tundo a Ferminiano l'opposizione incalza ancora le difficoltà di questa ditta si espandono in tutto il territorio e siamo in conclusione vediamo lo sport ci sarà un periodo di riposo per le squadre di calcio ci sarà un periodo di appunto di sosta il campionato ritornerà il 2 gennaio prossimo una lunga vacanza cominciata ieri dopo l'allenamento mattutino della VIS la vittoria col Siena segno di grande carattere intitola oggi il resto del Carlino i biancorossi vanno in vacanza a pancia piena dopo l'ultimo match al Benelli il confronto con i toscani ha dimostrato continuità periodo da incorniciare un periodo di continuità che però non coinvolge il Granata del Fano Calcio Alma il mister rosico per il risultato nel senso che mi rodo dalla rabbia brucia ancora la sconfitta con il vasto Girardi rosico ancora per il risultato lo dice Raimondo Catalano tecnico del Granata il giorno dopo la sconfitta di misura con il vasto Girardi l'Alma non riesce proprio ad avere continuità dei risultati e così dopo due vittorie consecutive i fanesi cadono nell'ultima trasferta dell'anno in Molise contro una formazione che era alla portata della squadra Granata purtroppo il risultato non c'è stato però insomma adesso ci si riflette ci si riposa un poco e poi si riprende dal 2 gennaio con il prossimo anno e questo mi dà la possibilità di fare gli auguri di Buon Natale a tutti voi anche noi faremo due giorni di sosta perché i giornali per due giorni non usciranno e riprenderemo il 27 dicembre con la rassegna stampa alle 7 del mattino e questo è tutto Massimo Foghetti vi auguro una buona giornata e ancora tanti auguri Buon Natale Grazie a tutti